Dei 1.400 posti di lavoro promessi da Amazon dall'apertura dell'annunciato centro di distribuzione di Roncade ne resterebbero solo 424 a fronte dei 976 destinati alla cessazione e tra i lavoratori assunti solo il 18% conterebbe sul tempo indeterminato. La metà dei contratti rivolti a persone inferiori ai 30 anni, due su tre uomini. Professioni qualificate solo per il 19,2%, un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla proiezione del lente bilaterale per il commercio di Treviso che si è basata su quanto accaduto in altri sette siti Amazon già presenti sul territorio. Le valutazioni sull'impatto socio-occupazionale presentate oggi danno degli elementi di preoccupazione significativi soprattutto sulla qualità della contrattualistica messa in campo, sul livello dei redditi, sulla precarietà del lavoro che viene offerto. Indubbiamente siamo di fronte a un fenomeno macro, ultralocale e abbiamo la necessità di offrire al nostro territorio, ai lavoratori e alle imprese delle risposte che siano coerenti con una prospettiva di futuro. Obiettivo? Negoziare l'insediamento Amazon in un'ottica sovracomunale tra enti locali, associazioni di categoria, parti sociali. Visione sostenuta anche dal prefetto Maria Rosaria Lagannà e condivisa dai sindaci. Sindaci che, come ha espresso il presidente dell'Anci Veneto Mario Conte, si mettono a disposizione per cambiare le regole e cominciare un percorso di lavoro per una riforma dei rapporti fra enti locali ad Amazon e fra Amazon e consumatori e lavoratori. E di avere quindi un confronto sereno ma schietto anche dal punto di vista della tutela occupazionale. La sicurezza sul lavoro e la qualità del lavoro sono fondamentali per la nostra amministrazione e per la nostra comunità. Il tutto volto alla salvaguardia del territorio, su cui la ricaduta occupazionale risulterebbe peraltro minima. È un'occupazione prevalentemente maschile per due terzi. È un'occupazione soprattutto che non è, che solo in piccola misura è di matrice locale. Non solo impatto occupazionale, ma impatto su traffico, viabilità e infrastrutture che insistono attorno al Colosso. Un dibattito che coinvolge l'intera provincia di Treviso, al momento interessata da tre poli logistici, Roncade come centro di distribuzione di 60.000 metri quadri, quello di smistamento nell'area ex Scardellato a Treviso e quello di Riese Pio Decimo, con importanti ricadute previste sugli assi viari del Terraglio Treviso Mare, la Feltrina e la Pedemontana.